Non avevo premeditato niente stasera, te l'assicuro, ed era da tanto che non baciavo così un'altra donna. Beviamo un bicchiere o due, ma io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te. Ecco, stiamo correndo. Io ho comunque fatto quello che dovevo, ti ho detto di mia moglie, dei miei figli, anche che non sono bravo a letto. Eh no, questo non me l'hai detto. È semplice. Siamo attratti l'uno dall'altra. Ci piacciamo. Non c'è niente da programmare. Ma basta con questa idea di tradire tua moglie. L'ami? Sì, beh, sì. Perfetto. Questo vuol dire che non la tradisci. Noi ci vediamo per altro, no? Sono contento. Come sei contento? Vuoi dire che stai bene? No, è diverso da bene. Sono contento. Contento di te? No. Potresti esserlo perché è stato bello. Quello che voglio dire è che sono contento di vivere ciò che vivo ora.